Musica Complice il bel tempo e il clima gradevole, le celebrazioni per la festa della liberazione sono particolarmente riuscite. Iesi ha celebrato la ricorrenza a partire dalle 9 e un quarto con gli onori ai caduti presso il palazzo comunale da parte del sindaco Bacci. Subito dopo la bella iniziativa a pedali con uno stuolo di cittadini muniti di biciclette che hanno aderito all'evento per festeggiare il 25 aprile girando per le vie cittadine in bicicletta. Una folla particolarmente nutrita ha poi seguito la solenne messa al monumento e dei giardini pubblici, alla presenza delle più alte cariche locali. La giornata è poi proseguita secondo programma e senza intoppi, registrando comunque una partecipazione di una intensità forse superiore alle aspettative. culminata con il bel momento di riflessione al cipo martire. Grazie. 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 Grazie.